Come gli ha i lights della partita? Qua mi parla con De Pai una roba scandalosa, dopo. Il gol di Giberto Silva, spatta Krang di testa e ha fatto il gollasso. Rodrigo se ne va e non si sa com'è ma tira fuori. Sempre Rodrigo viene pescato, tira e il proiettale la parla con le unghie, praticamente. Quello è Rodrigo. Cioè, Rodrigo ha fatto di tutto con Rodrigo. Ah, sì, il tiro a giro la tira fuori. Incredibile. Qua il tiro da Maradona a suo la merda de destro poi qui Sancho ruba a palla si invola tira e segna grande Sancho di fronte a non ha il digno per lui ma viene fermato dal difensore e il mass tira l'ombro qua quadrato qua da solo lanciato gliela la metto perfetta ma lui si allunga all'ultimo momento a te pareva E poi l'Euro goal Guardate questo Euro goal Detto 8 goal Però io lo metto fuori Tiro al volo Gollasso questo E poi lui mi stira Perché ha ciccato 15-8 ho fatto Lui 6-4 3-0 Mi sembra onesto Ciao ciao ragazzi Ciao ciao